Benvenuta, buongiorno Sara Travaglini, presidentessa della cooperativa D'Arcasa, cooperativa di abitanti che ormai credo abbia quasi 30 anni o qualcosa del genere. Grazie per essere con noi e proprio la prima domanda che ti farei è spiegarci chi è, cos'è D'Arcasa e cosa fate da così tanto tempo nel nostro territorio. Buongiorno, grazie molto dell'invito. D'Arcasa è una cooperativa di abitanti nata appunto nel 1991, quindi l'anno prossimo compiamo 30 anni di attività nel territorio milanese e c'è modellaria metropolitana di Milano principalmente. D'Arcasa è nata come cooperativa che voleva rispondere principalmente al bisogno di casa di cittadini stranieri, infatti il nome Dar significa casa in arabo, da un gruppo di persone che appunto voleva proporre una soluzione abitativa stabile per i tanti lavoratori migranti che negli anni 90 incominciavano a essere una presenza numerosa appunto nella città di Milano. Nel tempo l'attività di Dar si è evoluta e quindi insomma ha aperto la sua attività a tutte le persone che hanno un bisogno di casa, un bisogno di casa accessibile dal punto di vista economico prima di tutto e anche un bisogno di casa dal punto di vista della voglia di costruire delle relazioni. In questi 30 anni abbiamo lavorato su diversi fronti, da un lato appunto costruendo un'offerta proprio di casa diretta attraverso principalmente il recupero di patrimonio pubblico, quindi con convenzioni con il Comune di Milano e con l'Aler principalmente, ma anche lavorando sulla gestione di progetti di altri, quindi attraverso la costruzione di un modello gestionale che tiene insieme le funzioni di gestione immobiliare, quindi quelle più tecniche amministrative con invece un tipo di approccio sociale al tema dell'abitare, ci siamo proposti appunto per gestire progetti abitativi anche realizzati da altri fondi immobiliari o la stessa amministrazione comunale. Ad oggi gestiamo più di 500 appartamenti appunto a Milano e provincia principalmente e lavoriamo appunto diciamo perché la casa sia un luogo piacevole, accessibile e appunto ricco di relazioni per tutti quelli che ne hanno bisogno. Senti questo è il grande tema da cui vorrei farti partire nelle riflessioni che stiamo facendo, stiamo tutti facendo il nostro dovere sacro santo è quello di rimanere a casa per tutelare non solo la nostra salute ma diciamo la salute della comunità e quindi benvenga io resto a casa, però poi intanto non tutti una casa ce l'hanno e l'altra cosa è che non tutte le case probabilmente sono adeguate a starci così tanto tempo in così tante persone allora forse in questi giorni, in queste settimane ormai emerge una volta di più il fatto che come dire il diritto alla casa è tutelato fino a un certo punto o comunque forse dobbiamo riflettere di più sul fatto che non tutti hanno una casa adeguata alle proprie esigenze. Sì sicuramente la fase che stiamo vivendo sottolinea in maniera ancora più critica di prima quali sono le contraddizioni rispetto al tema dell'abitare e soprattutto dell'abitare una grande città come quella di Milano che se da un lato offre moltissime opportunità ai suoi abitanti dall'altro credo che sia uno dei contesti almeno nazionali più difficili dove trovare una casa e riuscire a mantenerla. Noi lo vediamo moltissimo dalle richieste che abbiamo nel senso noi abbiamo una lista di prenotazione per accedere appunto alle assegnazioni della cooperativa ed è una lista che conta ad oggi centinaia di persone a cui purtroppo non siamo in grado di rispondere in tempi ragionevoli tanto che noi appunto in un certo senso dissuadiamo le persone dall'iscriversi oggi perché appunto i tempi di attesa per avere una casa da parte nostra sono molto lunghi questo perché riuscire a costruire nuova offerta che appunto abbia un canone basso quindi un affitto contenuto e che sia alla portata proprio di tutti è molto difficile se non si hanno delle risorse da investire direttamente o se appunto non ci sono possibilità di recupero di patrimonio e quindi insomma riusciamo ad assegnare solo le case che ad oggi abbiamo. Allo stesso modo anche i progetti che gestiamo per conto di altri che appunto offrono sempre alloggi o a canone contenuti o sono appunto rivolti anche a famiglie in emergenza sono sempre occupati perché cerchiamo soprattutto di lavorare per non lasciare neanche una stanza vuota proprio per il bisogno che c'è però la richiesta è veramente alta quindi oggi appunto in un certo senso siamo anche soddisfatti del lavoro che facciamo perché appunto queste più di 500 famiglie oggi hanno una casa e hanno soprattutto un punto di riferimento nel senso che in queste settimane di lavoro in cui anche il nostro modo di relazionarci con i nostri soci e gli abitanti è dovuto cambiare per forza perché il rapporto diretto non l'abbiamo più potuto mantenere siamo riusciti a mettere in campo tutta una serie di strumenti di relazione con contatti telefonici attività di informative che quantomeno sono riusciti a raggiungere appunto i soci agli abitanti e anche orientandoli a tutti i servizi che la città è stata in grado di mettere in campo in questi in queste settimane quindi da appunto gli aiuti economici alla consegna delle spese di domicilio alle consegne dei pacchi alimentari perché appunto ci sono famiglie che sono in serie difficoltà economiche in questo momento e noi appunto come gestori ecco quello che siamo riusciti a mettere in campo è stato almeno un collegamento una connessione con i servizi esistenti. Ci rendiamo conto però che ci sono ancora tante persone appunto che una casa la stanno cercando o stanno rischiando di perderla perché appunto anche la crisi economica che già si è generata e si genererà purtroppo sappiamo che metterà molte persone in difficoltà rispetto alla capacità di pagare gli affitti sicuramente gli affitti di mercato ma anche gli affitti per quanto contenuti che anche noi pratichiamo quindi insomma il tema dell'abitare è veramente centrale nella vita delle persone e quindi insomma stiamo ragionando su come anche cercare insieme ad altre realtà che si occupano di questo tema di mettere in campo degli strumenti per sostenere le persone. Ti provo a farti una domanda duplice simile ma duplice diciamo la prima parte di questa domanda è questo è il momento di pensare o forse di ritirare fuori nuove forme di abitare cioè nuove forme di convivenza e immagino appunto guardando davvero ai cittadini di una città come Milano ma non solo che non sono semplicemente le famiglie normali marito moglie con figli magari ma all'anziano solo o allo studente che viene da fuori il lavoratore che viene da fuori forse dovremmo iniziare a ragionare così la seconda parte che ti farò dopo ma te l'anticipo è pensare a nuove forme di abitazione quindi anche non solo il contenuto ma il contenitore però torniamo al contenuto dobbiamo ripensare il nostro modo di vivere nelle case ma io credo che alcune occasioni diciamo di sperimentazione di nuove forme di abitare siano stati veramente molto utili in questa fase e penso ad alcuni anche progetti che abbiamo messo in campo noi in cui diciamo sotto il grande cappello dell'abitare collaborativo che cosiddetto insomma magari ai più non dice molto no però diciamo è un appunto questa forma di abitare che cerca di mettere in relazione le persone e in questo senso tutte le attività di aiuto fra vicini che si sono sviluppate anche spontaneamente in alcuni contesti o che si sono appunto che erano già in campo e si sono sviluppate magari su più larga scala proprio grazie a dei progetti di abitare collaborativo che c'erano nei quartieri fanno capire come il tema delle relazioni di vicinato siano fondamentali soprattutto nei momenti di bisogno noi abbiamo sviluppato insieme alla cooperativa sociale comunità progetti ad arci milano un progetto che si chiama ospitalità solidale in cui ci sono diciamo dei giovani che vivono in mini appartamenti in quartieri popolari diciamo a un canone contenuto e che noi accompagniamo anche diciamo ad essere cittadini attivi del loro quartiere in questo caso queste ragazze queste ragazze che sono rimasti negli appartamenti in questo periodo hanno continuato appunto ad essere dei cittadini attivi hanno come dire trasformato le loro attività di volontariato in attività utili in questa fase quindi facendo appunto le spese ai vicini di casa anziani sappiamo che nei contesti popolari ce ne sono moltissimi aiutando a distanza i bambini a fare il dopo scuola continuano a fare il dopo scuola però appunto a distanza aiutandoli a fare i compiti in questa fase in cui le famiglie soprattutto quelle che magari hanno meno strumenti fanno un po fatica a seguire la didattica online le istruzioni online dei propri figli quindi diciamo tutta una serie di appunto attività e modi di abitare la casa del quartiere o anche solo il caseggiato in maniera diversa si sono rivelati degli strumenti di sopravvivenza in qualche modo comunque di solidarietà e di aiuto reciproco molto molto utile in questa fase quindi penso che debbano essere un po rafforzati questi questi progetti e che debbano essere anche un po valorizzati perché appunto come si è visto sono stati in grado di rispondere a tanti bisogni senza anche delle grandi sovrastrutture erano già in corso c'erano delle relazioni assodate quindi insomma anche un po nell'immediatezza nelle informalità sono riusciti a dare tante risposte dall'altra parte c'è invece quindi è tutto un tema sulla socialità che è un altro aspetto molto molto grande molto importante della dell'abitare collaborativo che è un forse un po da ripensare rispetto al clima che c'è oggi non vuol dire abbandonarlo ma appunto magari immaginare a come vivere gli spazi in modo diverso quello penso che sia un po una pratica che dovremmo iniziare a fare tutti a maggior ragione nei contesti abitativi dovremmo imparare a svilupparlo senti un momento in cui tutti quanti annelliamo a un terrazzo un cortile forse non dico che le case nuove però si potrebbe anche modificare come si diceva il contenitore cioè ripensare anche gli spazi limitatamente a quello che ci sarà consentito diciamo per la distanza sociale però pensarli in modo che siano appunto più accoglienti e più al servizio delle persone ma mi immagino anche dal punto di vista urbanistico magari con dei servizi più vicini visto che dobbiamo stare qua attorno e ripensare anche un modo di inserire l'abitazione dentro un contesto più ampio e quindi magari un po dimenticarci i quartieri dormitori dove si va solo dormire per poi spostarsi a lavorare e fare altro penso anche a tutti quelli che lavorano insomma ormai la casa è diventato un altro posto rispetto a quello che era fino a poco fa eh sì sicuramente diciamo dall'interno delle abitazioni si sono come ho detto dovuti reinventare un po gli spazi appunto per consentire a chi ha potuto di lavorare a casa appunto anche di gestire la parte di istruzione dei figli insomma tante nuove esigenze che nelle molte case eh invece non hanno trovato spazio purtroppo appunto non tutti sono nelle stesse condizioni eh e quindi sicuramente ci sarà bisogno di un ripensamento no anche della degli spazi interni ma a maggior ragione perché non tutti potranno mai permettersi eh grandissime case è importante pensare a degli spazi invece di uso comune che possano però continuare a essere utilizzati eh con delle attenzioni anche in situazioni come queste penso in particolare agli spazi aperti ehm è una cosa che manca molti credo soprattutto in città eh la possibilità appunto anche solo di un balcone di un terrazzo di una terrazza condominiale eh di un cortile grande sufficientemente per poter fare dei turni per poterlo utilizzare quindi eh sicuramente un po' il tema di ehm di dotare i contesti abitativi di spazi adeguati eh eh è centrale altrettanto il tema dei servizi eh avere sotto casa in questo momento appunto degli esercizi commerciali di vicinato per esempio è una grandissima risorsa e purtroppo anche qui sono pochi casi eh in cui è possibile averli no penso eh che invece in tanti progetti soprattutto di housing sociale questo tema del commercio di vicinato è ben presente e in questa fase ha sopperito a tante esigenze appunto magari eh anche uno eh che insomma la fatica muoversi o comunque non può uscire di casa avere un esercizio commerciale vicino è una risorsa importante quindi ehm sicuramente sono degli stimoli per una nuova progettazione o comunque per appunto diffondere maggiormente eh alcune progettazioni che finora sono solo state sperimentali ma che invece possono diventare un po' la normalità quindi anche quartieri più vivibili, più accessibili, maggiori servizi eh e ma per tutti insomma per tutti i quartieri anche quelli insomma fra virgolette più periferici. Senti eh mi pare che non si possa più dire che il mercato immobiliare puro abbia fatto sempre un incontrare domande offerte in maniera efficiente mi pare che questo sia il momento in cui la cosa scriccola ancora di più non forse altro perché eh i redditi diminuiscono, le persone sono maggiormente in difficoltà e tutto il resto. Allora mi chiedo e ti chiedo se non è il caso di immaginarsi nuove formule diciamo così di mercato o quantomeno di nuovi strumenti per far incontrare domande offerte tra chi una casa può mettere a disposizione e chi invece la vuole in qualche modo o se non sono nuove formule innovative magari invece sono formule già utilizzate addirittura vecchie qualcuno può considerare le vetuste. Mi chiedo ad esempio il ruolo dell'edilizia pubblica popolare insomma come si diceva un tempo se in qualche modo va riscoperto o rinnovato. Mi chiedo se sia un momento di passaggio che ridefinisca il mercato immobiliare per cui l'abbiamo conosciuto finora con questo boom impressionante almeno in una città come Milano che adesso evidentemente dovrà essere in quanto meno ridimensionato. Eh sì, è ancora molto difficile fare delle previsioni però è innegabile che insomma questa situazione ha messo in luce appunto ancora di più una serie di criticità nel mercato immobiliare. Penso soprattutto a tutto il tema del turistico ricettivo, brevi periodi lasciato completamente mano al mercato con insomma delle ragioni comprensibili ma che ha reso la città appunto un po' da un lato un po' a mordi e fuggi per chi veniva e dall'altro inaccessibile per chi non aveva le risorse per stare su quel tipo di mercato. E in questo senso mi viene da dire che in questo momento ci stanno perdendo tutti perché poi appunto chi è potuto andare via e se n'è andato via, chi non ha più il lavoro l'affitto non lo può più pagare. Magari prima facevano uno sforzo enorme per pagare la sua stanza singola e 650 euro. Tendenzialmente poteva essere un giovane precario che oggi quel reddito lì non ce l'ha più e magari non ha neanche tutte le caratteristiche per poter accedere a tutti gli aiuti che sono stati messi in campo. Quindi insomma da questo punto di vista secondo me sì dovrebbe essere un po' l'occasione per ripensare soprattutto il tema delle locazioni brevi ma intese come quelle locazioni più o meno temporanee che danno risposta a una grande popolazione mobile che si affaccia alla città di Milano e che vuole investire su di essa che siano studenti, giovani lavoratori, precari e che si vuole costruire un futuro in città. In questo senso per me una garanzia la possono dare i soggetti gestori. Ovvio che vabbè insomma io lo dico anche da soggetto gestore di progetti di questo tipo però diciamo un'intermediazione in cui c'è qualcun soggetto, un'organizzazione che si fa garante nei confronti dei proprietari in qualche modo e poi appunto seleziona, accompagna gli abitanti anche in percorsi temporanei appunto di soprattutto per i giovani con dei canoni accessibili. Da un lato garantisce i proprietari sulla solidità, la stabilità del loro rendimento ma dall'altro garantisce anche i giovani rispetto a contratti regolari, rispetto appunto diciamo a tutta una situazione abitativa che è diversa dalla coabitazione forzata a prezzi inaccessibili e questo per esempio è un esperimento che come DAR stiamo cercando di fare, abbiamo già fatto in piccoli casi ma stiamo cercando di fare con una coalizione che si chiama Milano 2035, coalizione per l'abitare giovanile con tanti altri soggetti diciamo del terzo settore milanese che lavorano sul tema dell'abitare e non solo, quindi anche soggetti istituzionali, università. Quindi diciamo questo tema secondo me diventerà davvero centrale per regolare un mercato diciamo della locazione che a Milano può rappresentare anche un'occasione di sviluppo della città e di inclusione molto importante. dall'altro lato c'è appunto tutto il tema diciamo della tenere in casa chi fa fatica, le famiglie, le famiglie numerose, quindi insomma anche da quel punto di vista la città non può essere più solo appunto la città esclusiva dei 5.000 euro al metro quadro, ma deve essere in grado di rispondere appunto ai vari bisogni dell'abitare, soprattutto di quelli che hanno poche risorse e hanno bisogno appunto di comunque insomma di una casa. Bene, grazie davvero Sara Travaglini, presidentessa della cooperativa D'Arcasa, buon lavoro e a presto di persona. Grazie a te, buona giornata, buon lavoro e saluti a tutti. Grazie a te, buona giornata.